E' un tema enorme perché come Francesco Giubilei ha ben detto prima tocca tanti argomenti, tanti ambiti. Secondo me ci sono delle questioni di ordine pratico, cioè dei cambiamenti che andrebbero fatti in particolare all'interno della scuola. Io ho l'occasione di vedere tanti ragazzi diciamo sui vent'anni qualcosa di meno o qualcosa di più e più o meno noto, così ovviamente una osservazione empirica un po' spannometrica, però più o meno ci sono delle caratteristiche che io ritrovo quasi sempre negli incontri che faccio. Intanto ritrovo il fatto che sono in tanti ad avere voglia di stimoli, avere voglia di cultura, non è vero che sono tutti lobotomizzati o sdraiati per citare un libro di uno dei responsabili culturali di questa situazione, non faccio nomi Serra. Come ho detto non faccio nomi, mantengo le promesse. Non è vero che sono sdraiati, sono sdraiati perché li hanno fatti sdraiare e una volta sdraiati hanno cominciato a colpirli in testa con un badile per svuotarli. Invece hanno molta voglia di approfondire, di avere nuovi stimoli, sono curiosi, c'è tanta bellezza nelle giovani generazioni italiane secondo me. Il più sta nel dargliela. Allora, così un po' in ordine sparso alcune riflessioni che mi venivano sentendo Francesco. La prima, appunto dicevo di ordine pratico, riguarda banalmente secondo me gli stipendi degli insegnanti. Nel momento in cui tu vai in una scuola pubblica in cui la figura, perché è svalutata la figura dell'insegnante? È svalutata da decenni di lotta contro l'autorità, contro l'ordine verticale e tutte le cose che sappiamo. Però è svalutata anche dal fatto che, poiché oggi trionfa un'idea sbagliata, in realtà c'è una meritocrazia, ma è una meritocrazia fuorviata. Cioè l'idea è che se tu ti meriti, se sei bravo, guadagni tanto. Quindi l'insegnante che guadagna poco è per forza uno che non ce l'ha fatta, un fallito. Tanto più un insegnante delle scuole superiori, ad esempio, visto che non ce l'ha fatta ad arrivare all'università, chi è questo signore per dirmi cosa devo fare, cosa posso fare. E questo ha, secondo me, demotivato molto gli insegnanti. All'interno della classe docente ci sono delle grandi eccellenze, ci sono persone che fanno un lavoro incredibile, ci sono anche casi di disperante inettitudine e ignoranza. Qualcuno scherzando, facendosi fatto molta ironia sulla proposta di Rampelli sulle parole straniere, io darei la multa a chi non pronuncia le parole italiane correttamente, secondo me sarebbe una finanziaria, secondo me ce la facciamo. A partire dai giornalisti, sì, ma io mi multerei anche da solo, guardi. Allora, secondo me una duplice azione, cioè migliorare le condizioni economiche e allo stesso tempo studiare però degli strumenti, come dire, premianti, magari, se non vogliamo usare, andare allo scontro, è chiaro che stiamo parlando di situazioni incancrenite da decenni che è difficilissimo affrontare, però da lì si deve partire. Cioè se io pretendo che l'insegnante sia rispettato, devo come nazione e come Stato, come istituzione pubblica rispettarlo riconoscendogli il valore. Tra l'altro oggi con l'autonomia scolastica ci sono molte possibilità, anche solo di far uscire i ragazzi dalle classi, di farli visitare mostre, di farli vedere musei, di portarli nei luoghi d'arte. Proprio oggi sentivo parlare di alcune classi lombarde che sono state portate al Vittoriale, dove Giordano Bruno Guerri ha fatto un lavoro meraviglioso, e io sono convinto, ne ho visti tanti di ragazzi lì, e si divertono. Si divertono, apprezzano, imparano, sono curiosi, perché c'è qualcuno che sa raccontare la storia. C'è qualcuno che sa raccontare la storia, che sa entusiasmarli, che sa attirarli, cosa che i bravi insegnanti, chiunque di noi ha avuto almeno un bravo insegnante nella vita, al liceo, alle medie, che gli ha dato la voglia di leggere, di studiare. Non affronto neanche il tema della famiglia, che è il luogo da cui tutto parte, perché se ti abituano i genitori a leggere, se i tuoi genitori fanno lo sforzo di stare con te, aprirti un libro, starti vicino, filtrarti i contenuti, darti degli stimoli, allora ovviamente tutto il gioco è semplificato. Purtroppo gli insegnanti, per una strana concezione che noi abbiamo avuto, si sente tanto parlare di patriarcato, va molto di moda oltre all'ecologismo, il transfemminismo e altre cose di questo genere. In realtà noi abbiamo imposto una visione totalmente materna dello Stato e delle istituzioni, materna in senso negativo, di una madre terribile, diciamo così, in cui molti insegnanti, ripeto soprattutto le superiori e le medie, sono una specie di surrogati dei genitori, che si devono occupare più che altro di risolvere le beghe personali dei ragazzini, di farsi calico di una serie di problemi non secondari, specie nelle scuole più periferiche, diciamo così, e, perché poi non ci sono soltanto i licei, c'è un enorme mare magnum di istituti tecnici e altre scuole, insomma, Ixunt Leones. Alla base, secondo me, del nostro rapporto con i ragazzi, c'è una visione del mondo completamente sbagliata, che però è nostra, ci appartiene. Perché non si leggono libri? Secondo me per lo stesso motivo per cui non si fanno figli. Perché si fa fatica. Noi abbiamo come società, non voglio dire come civiltà, perché non credo che lo siamo più, abbiamo elaborato una forma di rimozione della morte, della fatica, della sofferenza, che poi nella rivoluzione digitale trova un compimento perfetto, per cui siamo disabituati a fare fatica. E questo si vede a molti livelli. L'impegno a lungo termine, la costanza, adesso forse sono state anche un po' esagerate giornalisticamente, però sono un segnale le varie inchieste che sono state fatte nelle scorse settimane sull'abbandono dei licei da parte di migliaia di ragazzi. E io non credo che i licei, la difficoltà, il carico a livello di studio, compiti a casa, sia superiore a quello di vent'anni fa o trent'anni fa, penso che sia minore. E questo produce delle conseguenze, produce delle conseguenze a livello internazionale, nel senso che poi dalle altre parti ci sono invece ragazzi, se noi guardiamo a proposito di minoranze etniche, la minoranza cinese, vediamo che ha un approccio completamente differente, ipercompetitivo, poi con mille problematiche, però molto diverso rispetto ai nostri ragazzi, che da un lato quando si tratta di far loro accettare dei lavori sottopagati e squalificanti, sono stati definiti ciusi, multa anche per la Fornero, con una punta di disprezzo, e dall'altro però per non cadere in un eccesso si cade nell'eccesso opposto, cioè a giustificare qualunque cosa. Noi abbiamo avuto questo fenomeno, sempre per restare in ambito serie, con tutto il rispetto per un bravo attore, la Silvio Orlandizzazione della scuola italiana. Non so se avete presente quei film con Silvio Orlandi, in cui fa il professore, che sono molto divertenti anche, però danno l'idea di come... Quello era un bravo insegnante, un insegnante colto, e però era un insegnante che faceva da papà, da amico, ai suoi alunni, fa lo stesso se uno... C'era quella scena meravigliosa in cui uno andava alla lavagna e scriveva De rerum natura, come se fosse una frase inglese, no? T-H-E. E da lì questo, secondo me, ha molto contribuito, rende molto l'idea di una parte della nostra scuola. E quindi l'abitudine, la fatica, al sacrificio, in qualche maniera, è importante. Però non possiamo pretendere dai ragazzi quando non ce l'abbiamo noi. Quando per paura di un contagio non abbiamo avuto timore a discriminare i nostri vicini di casa per due anni e mezzo. Abbiamo vissuto nel terrore di uscire sul pianerottolo, di andare a visitare i parenti, di abbracciare le persone. Dal primo all'ultimo, come nazione. Siamo rifugiati nel terrore, lo facciamo costantemente, più o meno di qualunque cosa. La paura è l'arma principale di controllo. Di solito fa leva su questo, sul timore della morte. Nel momento in cui tu vivi in un presente eterno, come quello attuale, è interessante, è vero quello che diceva degli ecologisti, prima sono, per lo più rientrano nel campo dell'imbecillità. Però se osserviamo attentamente la prospettiva che danno, che è una prospettiva diffusa, cioè viene offerta da tante fonti, è quella di un avvenire terrificante. Cioè una volta almeno, noi abbiamo discusso anche recentemente di egemonia culturale, di sinistra, del progressismo, almeno una volta il progressismo ti proponeva le magnifiche sorti progressive. Oggi, noi siamo in quello che Christopher Lascia aveva già capito nella metà degli anni Ottanta, nella società della sopravvivenza. Cioè il meglio che ti può capitare è sopravvivere. E quando tu sei all'interno di questa prospettiva, chi te lo fa fare? Di impegnarti per il futuro, di costruire qualcosa, di edificare. Cioè una società che fa i conti con la morte è quella che costruisce una cattedrale perché sa che resterà nei secoli a venire. Perché ha necessità di lasciare un retaggio, no? E noi non ce l'abbiamo più. Ora, questi sono temi enormi che è molto difficile affrontare, però, insomma, se almeno si comincia a cambiare prospettiva, forse il cambio di prospettiva può illuminare poi le azioni che si compiono anche a livello politico. Poi però ci sono altre questioni, secondo me, molto più accessibili. Cioè cosa si può fare di concreto oggi? Sono partito con una nota, per me, di speranza. E lo dico a me stesso perché dopo aver frequentato tanti ragazzi, anche giovani, insomma, la sensazione era abbastanza di scoramento, no? Poi ho provato a girare, a vedere i problemi da un altro lato. Le serie televisive. Allora, è vero, noi possiamo scrivere tutti i libri che vogliamo, possiamo, lo dico spesso, parlare, fare tutti i convegni che vogliamo. Qui siete tutti molto giovani, ma non vedo ventenni, ecco. O forse qualcuno sparuto, quindi stiamo parlando fra di noi. Però, è vero che Netflix arriva in un lampo a milioni di persone nel mondo. E quindi annichilisce qualunque tentativo di... Scrivo un libro per cambiare la situazione. Chi se ne frega, tanto che va bene, vendi 3.000 copie, 4.000 copie, no? Contando i parenti, 4.000 e 10. E però, ci sono dei segnali. Cioè, serie televisive come Gomorra, serie televisive come tante serie francesi ambientate nelle banlieue, serie sulla mafia, le mafie, i criminali di strada, un immaginario che si sono costruiti i rapper e i trapper. Io ci ho perso un po' di tempo, nei mesi scorsi me li sono ascoltati. Sono fenomeni da milioni di visualizzazioni, milioni, che spesso non passano nemmeno nelle televisioni ufficiali, diciamo così, passano solo sui canali online. Ora, di cosa parlano? Forza fisica? Lealtà, lealtà al gruppo, comunità, coraggio, sfida all'ordine costituito, conquista, diciamo anche, insomma, abbastanza predatoria delle donne, o viceversa, perché ci sono anche le ragazze, purgato della deviazione in senso economico, diciamo. Noi viviamo, diceva Elliot, secondo la legge della perdita del guadagno, per cui tutto è filtrato dai soldi. Se noi togliamo a questo immaginario i soldi, cioè tutto quello che io faccio lo faccio in funzione dei soldi, che cosa ci resta? Ci restano alcuni valori tradizionali che questo immaginario perverte, ma che attirano i giovani. I giovani non sono attirati da quella serie solo perché quelli sono ricchi, ma anche perché il membro della gang di Gomorra trasmettono immagini di forza, di potenza, di mascolinità, di verticalità, tutte le cose che non hanno da un'altra parte, tutte le cose che mancano e che vanno a cercare dove? Dal trapper. che fa dei discorsi che se fosse, infatti spesso poi finiscono in conflitto, in cortocircuito col politicamente corretto. E allora significa che esistono alcuni, non so se valori, alcuni bisogni, direi di più, fondamentali degli esseri umani che non si possono annacquare, non si possono addormentare, non si possono sdraiare. E in un modo o nell'altro saltano fuori. Non è vero che si possono abbattere, distruggere i confini. Non è vero. Non si distruggono. Infatti, al massimo, si restringono all'uscio di casa, come è successo pochi mesi fa. Non è vero che si distruggono le identità. Si può smantellare l'identità nazionale, ma viene sostituita da identità più piccole, ristrette e più feroci. Io sono omosessuale, tu sei nero, tu sei la poetessa lesbica, zoppa caraibica con l'occhio di vetro, e sempre più piccoli, no? L'identità sempre più piccola fino a io. L'identità più piccola, più aggressiva, più feroce, più narcisista e più lagnosa, perché questo, uno dei grandi temi, e allora, forse possiamo dare ai ragazzi quello che chiedono. Esistono quelle che si chiamavano industrie culturali, no? In Italia. La RAI è un'industria culturale. La RAI può produrre serie televisive. Per esempio. La RAI può fare concorrenza a Netflix, se vuole, perché ha dei servizi che funzionano molto bene. RAI Play funziona molto bene. Ti chiede il terzo sesso quando ti registri, però, insomma, funziona molto bene. Quindi non bisogna nemmeno, secondo me, avere paura, proprio perché sono disabituati alla fatica, e invece sono molto sensibili all'intrattenimento, e vivono di intrattenimento, con un basso livello di attenzione. non significa utilizzare e limitarsi a utilizzare quegli strumenti. Come è stato fatto? La politica di destra ha abusato dei social in questi anni in una maniera quasi ridicola. sono strumenti di propaganda per prendere voti, per prendere consenso, ma non ci possiamo aspettare che formino. No? Da lì può venire solo del male. Però possono essere sfruttati per indirizzare da qualche altra parte. e allora si possono fare delle cose. Dobbiamo sperare che arrivino a leggere dei libri? Beh, in realtà ne leggono dei libri. C'è una parte di ragazzi che legge. Cosa leggono? Questa cosa, young adult lo chiamano, no? è il vecchio fantasy che però parla di loro. Storie per adolescenti, giovani e adulti. No? E funziona. Funziona tantissimo. Fanno la fila per comprare questi libri. Di nuovo, di che parlano? Guerrieri, scontri, battaglie. Poi purtroppo c'è questa malattia, questo virus, questo verminaio del lamento, della lagna, delle minoranze che infiltra tutto. Se vuoi, è presente nelle serie televisive, è presente nei romanzi. Persino Frank Miller che era, insomma, tutto d'un pezzo ha ceduto a queste cose. Ora, si può fornire qualcosa di abbordabile, interessante, pop persino, che attiri un ragazzo. e poi magari ci arriva successivamente a leggere un libro. Devi dargli qualcosa, devi dargli, non so, come per attirare, quando devi attirare un, non voglio dire un orso, perché sono bei tempi, però, insomma, se, no, devi mettere un po' di formaggio, un po' di zucchero. È facile per noi dire, bisognerebbe leggere Dante, va bene. No? La gente si annoia con Benigni, figuriamoci. e però questo è un, per fare questo, ci vorrebbe un'industria culturale. E un'industria culturale, in Italia c'era, è stata mal utilizzata, c'è un'altra che era privata e ha peggiorato la situazione per diversi decenni. e quindi la grande sfida, secondo me, è questa. Io credo che sia pieno e vanno valorizzati e bisogna investire dei soldi. Non solo in convegni, in lodevoli iniziative culturali, in musei e in tutte le grandi cose che fanno anche turismo, fanno, però, se noi diventiamo un paese di, siamo un paese per essere una nazione, noi invece siamo il paese dei musei, dove vanno, chi ci va il musei? I turisti, per lo più. No? O le professoresse che leggono Repubblica, che grazie al cielo che leggono Repubblica ancora e che vanno ancora a musei e che comprano qualche libro, grazie al cielo. L'offerta c'è, si tratta di spingerla, valorizzarla, promuoverla. Raramente ho visto dei politici promuovere dei libri, molto raramente, che non fossero quelli di Bruno Vespa. E lì li promuovevano perché a loro volta il libro promuoveva loro, quindi, no? Raramente ho visto degli investimenti seri su, ma guardate, lo vedete Netflix, guardate Netflix, è pieno di documentari interessantissimi e li guarda un sacco di gente, andate a vedere i dati di visualizzazioni dei documentari delle serie televisive, con il materiale che ha la Rai negli archivi, può fare centomila volte meglio. Domani mattina, non fra cent'anni. Nel frattempo che noi cambiamo la mentalità, può fare meglio, può interessare i ragazzi. L'altra sera su Rai 3 hanno dato in prima serata un bel documentario su Cesare Battisti, non ci vuole tanto, un bel documentario su Cesare Battisti in cui si spiegava che Cesare Battisti è stato un terrorista, comunista, protetto da intellettuali compiacenti di un bel mondo dei salotti. Con estrema, senza nemmeno la polemica che ci ho messo io, con estrema linearità, cento di questi documentari, duecento, forse il duecentesimo qualcosa cambia. Cento altre serie televisive come quelle che ha fatto Netflix, cento. è chiaro che però se noi ci fermiamo a riduciamo la cultura di destra a cose meravigliose come appunto nazi di cultura, nazi di identità, sì, poi siamo sempre signore degli anelli, per carità, tanta grazia a Tolkien, però esiste una tradizione, la tradizione esiste, continua a esistere a prescindere dall'uso che ne facciamo e a prescindere da noi. Esercita una attrazione potentissima, tant'è che appena c'è qualcosa di tradizionale all'interno di qualcosa che tradizionale non è, quella cosa esce, che sia dentro Gomorra, che sia dentro un'altra cosa, quello attira, più che mille altre cose. Ora, il nostro compito è prendere questa tradizione che esiste sempre ed è sempre viva, non è il passato, è presente la tradizione, è viva, sta a noi fare da tramite con la realtà e io credo che si possa fare domani mattina. È chiaro che ci vuole un po' di onestà intellettuale e la meritocrazia che su cui ho molti dubbi, però talvolta funziona, bisogna cominciare a dare l'esempio e applicarla. Cioè, se ho un posto libero, perché purtroppo la cultura si fa anche con i posti e le seggiole e i consigli di amministrazione, però non ci metto l'amico, quello che mi dice di sì, no? Ci metto uno bravo e lo lascio fare. Perché la cosa importante, il grande valore, l'unico, se c'è un valore, come dire, io non credo più nelle categorie di destra e sinistra, però mettiamo che esista un mondo di destra, una sola cosa è rimasta in comune a tutti, spero, l'amore per la libertà, l'unica cosa, la libertà di pensiero, no? Altro che le censure, la libertà di dire quello che si vuole con coraggio, così anche con provocazione, è l'unica cosa che tiene tutti insieme, perché sul resto non c'è uno che la pensi come il suo vicino di banco, dalla guerra, al blabiente, alle cose, è anche meglio che non ne parliamo se no finiamo a litigare. Quella è la via, uno bravo e lascialo fare, fallo vivere, le cose arrivano, secondo me, questo è il mio piccolo contributo molto terra-terra, però credo che insomma i discorsi giustamente elevati che condivido per filo per segno su tante cose, voglio dire quante volte ne abbiamo parlato, poi però ci siano anche delle piccole cose che si possono concretamente mettere in pratica però bisogna volerlo, non è che non ce ne sia stata la possibilità, negli ultimi vent'anni, trenta quasi, c'è stata abbondantemente la possibilità di farlo, abbondantemente. Abbiamo preferito giochi a premi, eredità, trappole varie, e viva che ci sono i cuochi che almeno fanno un po' di sovranismo alimentare. Allora 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 Allora